dicevamo questo è un tempo di attesa ma soprattutto di preparazione è un tempo da vivere sempre meglio ricordando gli errori fatti in passato insomma modificando il tiro se vogliamo modificando i passi metterli al posto giusto questo è un consiglio che possiamo dare a tutti sicuramente nessuno escluso dal prete ecco qui soprattutto alle mamme che ci seguono le tante mamme ai papà ai ragazzi soprattutto perché comunque hanno una strada molto più lunga davanti quindi mettere i passi al posto giusto sarebbe insomma l'ideale ricalcolo percorso c'era qualcuno che diceva così no possiamo capire così la conversione però c'è qualcuno che ci dice che abbiamo sbagliato quindi dobbiamo ricalcolare il percorso e la parola di dio insomma ci redarguisce spesso vedremo anche come protagonista di quest'avvento la grande figura di giovanni battista che non ci andava così leggero con i suoi discepoli anzi parlava di scure parlava di aia parlava di fuoco quindi bisogna stare attenti non è una cosa così facile perché convertire significa convertirsi significa anche un po bruciarsi ma il fuoco è sempre un elemento buono specialmente in questo inverno allora priorità lo diceva prima don pasquale dobbiamo avere delle priorità nella nostra vita ovviamente la parola di dio la nostra nostro faro e poi abbiamo un sito secondo piano che andiamo spesso a spulciare comunicare il sorriso di dio ecco qui il sorriso che ritorna anche in questa domenica accompagnato da quello di don giovanni benvenuto si sofferma un po sulla figura della mamma e del papà insomma però ascoltate non vi anticipiamo nulla descrivete un'invenzione che non vi piace è il titolo del tema che una maestra ha dato ai suoi bambini di sette anni odio il cellulare di mia madre così ha scritto uno dei bambini e quattro bambini su 21 hanno scritto la stessa cosa odio i telefonini perché i miei genitori ci passano tutto il giorno è veramente una brutta abitudine odio lo smartphone di mia mamma vorrei che non lo avesse mai comprato che non ne avesse mai avuto uno al termine del tema il bambino ha disegnato un grosso cellulare con una x sopra e un fumetto con lui che dice l'odio se sei genitore adesso immagina una scena di questo tipo sei lì che stai facendo una cosa stai vedendo un film finendo di leggere un libro arriva tuo figlio ti tira per un braccio e ti dice mamma papà vieni devo farti vedere una cosa aspetta un momento adesso finisco questa cosa e poi arrivo subito e lui ritorna e continua a tirarti il braccio a dirti di venire subito dopo un po' probabilmente ti spazientisci e ci sta anche e gli dici ti ho detto di aspettare cinque minuti e dopo arrivo ma allora perché ogni volta che arriva una dannata notifica noi stiamo subito lì immediatamente a prendere il cellulare e a vedere chi ci ha scritto che cosa ci ha scritto non sappiamo chi non sappiamo cosa nel 90 per cento dei casi sarà una cosa irrilevante né urgente né importante eppure siamo subito lì ad aprire la notifica per quale motivo qualcuno l'ha chiamata fomo fear of missing out scusate l'inglese la paura di perderci qualcosa la paura di essere come tagliati fuori da qualcosa che sta per succedere perché abbiamo paura che sia magari qualcosa di importante e allora dobbiamo subito andare a vedere i nostri figli si accorgono di questo e quel bambino la del tema ha scritto suo messaggio in bottiglia l'ha lanciato nel mare la maestra ha colto questo messaggio e l'ha rimesso in circolo l'ha messo sul web ed è diventato subito virale mamme papà non sono qui ad insegnarvi che cosa dovete fare con i vostri figli non sono neanche qui a dirvi che uno stupido aggiornamento di stato su facebook di una persona che magari abbiamo tra gli amici ma che neppure conosciamo di persona è più importante di quello che deve dirvi o farvi vedere vostro figlio in quel momento però una cosa ve la vorrei dire quando state con vostro figlio stateci stateci con il cuore con la testa con lo sguardo stateci con tutto voi stessi mica dovete starci sempre chi l'ha detto ma quando potete starci stateci e basta togliete quelle dannate notifiche e accorgetevi delle notifiche che i vostri figli vi stanno mandando magari in modo silenzioso qualcosa del tipo mamma papà avrai anche mille amici su facebook ma io ho bisogno di te ho bisogno di sentirmi guardato perché se tu mi guardi io faccio le cose bene e cresco serenamente mamma papà rallenta guardami negli occhi chiedimi che cosa sto facendo accucciati a giocare con me perché io non ho bisogno di mille amici su facebook ho bisogno di mamma e di papà qui con me adesso ci sentiamo un po tutti in colpa a sentire don giovanni benvenuto oggi con questo pezzo presente sul comunicare il sorriso di dio in fondo a proprio ragione sì ma penso che l'altro verbo che sia un po il protagonista del nostro avvento e che ci guidi un po alla ricerca di quella che è la volontà di dio per noi sia proprio il verbo accorgersi accorgersi che forse è un sinonimo di discernere questo verbo che utilizziamo spesso nella nostra pastorale papa francesco addirittura ne ha fatto uno dei pilastri del suo insegnamento da papa quindi da da guida della della nostra comunità cristiana accorgersi perché non è facile accorgersi di qualcosa ancor meno non è facile accorgersi di qualcuno don giovanni faceva riferimento al caso dei genitori distratti nei confronti dei loro figli quanti episodi di cronaca ultimamente sentiamo che hanno protagonisti che hanno come protagonisti questi genitori che tra virgolette dimenticano i loro figli in auto succede spesso no e quindi alcuni bambini addirittura hanno hanno perso la vita per una distrazione fatale da parte da parte dei loro genitori adesso so che sono stati creati dei dispositivi di legge che cercano un po di attutire questo questo urto questo difficile ma accorgersi è proprio ciò a cui siamo siamo chiamati noi cristiani proprio per in virtù di quello che dicevo prima per rendere l'ordinario straordinario quindi per capire che dio passa nella nostra vita attraverso una scia di ordinarietà di ferialità noi dobbiamo aprire gli occhi non dobbiamo lasciar cadere niente né di quello che vediamo né di quello che sentiamo perché ogni parola ogni gesto potrebbe rappresentare per noi l'involucro che racchiude un messaggio di dio per noi per questo dobbiamo stare bene attenti ci dobbiamo accorgere che qualcosa sta succedendo nella nostra vita sta cambiando si sta convertendo e tanti piccoli impulsi uniti a tanti piccoli sforzi da parte nostra possono veramente aiutarci a impostare un percorso senza bisogno di ricalcolo per accorgersene molto spesso c'è bisogno di uno scossone no questi impulsi a volte anche abbastanza forti traumatici se vogliamo devono lasciare un po il segno purtroppo a volte anche tragicamente però insomma ecco come possiamo farci aiutare se il bambino chiama mamma papà io sono qui questo è un tempo che dobbiamo vivere insieme ecco molto spesso si fa anche la differenza tra la quantità del tempo che si passa con i figli e la qualità del tempo qui possiamo soffermarci un attimo perché nel momento in cui siamo insieme a loro ai nostri figli dobbiamo passarlo tutto il tempo sì secondo me in maniera positiva una soluzione a questo potrebbe essere lo scavare dentro di noi uno spazio per le voci che ci interpellano per i genitori quelle dei figli per i figli quello degli amici per gli amici quello degli altri amici se noi non scaviamo uno spazio se noi non riserviamo uno spazio adatto e congruente importante per le voci che ci stanno a fianco e che chiedono la nostra presenza allora riusciremo a fare veramente ben poco c'è uno spot televisivo penso che qualche tempo fa ho visto che richiamava un po la scena dipinta dalle parole di don giovanni questo bambino che sollecita l'attenzione del proprio papà mentre lui sta usando il cellulare quasi in una maniera spasmodica ad un certo punto il papà gli dà un po di attenzione però il bambino prende il cellulare lo butta nell'acqua quindi questo gesto forte fa capire che ecco quello scossone che sollecita un po delle domande un richiamo forte da parte del del genitore perché è inevitabile che dopo un gesto così forte così audace una persona si chieda ma io sto camminando per la strada giusta sto compiendo il mio dovere sto facendo l'uomo sto facendo la donna sto facendo la persona il padre la madre in questo caso ecco con questa domanda noi vi lasciamo riflettere poi magari ecco trovare anche una risposta è il tempo giusto questo il tempo di attesa nell'attesa ci si ferma un po si pensa quello che abbiamo fatto quello che stiamo facendo come lo stiamo facendo per migliorare sempre di più ed è un insomma un monito forte anche per tutti i genitori forse rallentare il passo visto che stiamo aspettando un bambino rallentare il passo è anche interessante questa questa cosa che ci ha detto don giovanni senza fretta senza fretta non ci corre nessuno dietro senza ansia prepararsi sì ma senza cedere all'ansia il signore quando viene viene con la pace ok allora noi salutiamo adesso tutti quanti poi mi dirai che spot è questo perché si si te lo mando padre più tv non lo mandiamo te lo mando allora vi salutiamo vi auguriamo una buona prima domenica di avvento in famiglia un buon anno perché inizia l'anno liturgico ecco qua per noi buon anno no e ovviamente vi lasciamo sempre l'invito a rimanere sintonizzati su padre più tv perché subito dopo vi potrete ascoltare le riflessioni sulle domeniche di avvento in compagnia di padre franco moscone arcivescovo della diocesi di manfredonia vieste san giovanni rotondo sempre più disponibile sempre aperto accogliente anche lui è sempre attento ciao